Letture gender rinviate dopo le polemiche divampate anche a Padova. Ai Giardini della Rotonda dovevano essere lette ieri sera durante un incontro pubblico i libri censurati a Venezia dal sindaco Brugnaro. Contro questo evento però si era scagliato anche il sindaco di Padova Massimo Bitonci. Non aveva autorizzato questa manifestazione e aveva scritto su Facebook il primo cittadino esprimendo tutta la sua contrarietà ai libri banditi dalle scuole veneziane. Le polemiche hanno portato gli organizzatori delle letture a sospendere l'incontro padovano. Vogliamo evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione hanno detto e in città e soprattutto sui social i commenti si dividono. Sono favorevole perché? Perché secondo me è giusto che i bambini imparino a conoscere tutte le realtà che ci sono insomma quindi io sono favorevole. Penso che sia la cosa più sbagliata a questo punto anche perché dobbiamo dare esempio ai ragazzi per farlo vedere probabilmente proprio questo abbiamo bisogno. Io non sono favorevole a nessuna restrizione di questo genere perché la lettura è sempre crescita quindi queste restrizioni non le capisco, non le condivido. Sei favorevole o contrario alla lettura? No, no, no. Contrario? Contrario. Perché? Non so neanche cos'è. Per me non ci sarebbe nessun problema, nessunissimo proprio. Lo trovo una cosa normale diciamo, non sono per le limitazioni. Sono favorevole, assolutamente favorevole. È giusto l'insegnamento quindi? È giusto l'insegnamento, è giusto il confronto e quindi anche su temi come questi.